Ebbene sì ragazzi, dopo più di un anno sono tornato a pubblicare un video qui su YouTube e lo faccio con questo vlog registrato nel 2019 a Vienna. Quindi vi chiedo già da adesso di lasciare mi piace al video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina accanto al tasto iscriviti e di condividere questo video ovunque. Detto ciò, io vi lascio al vlog e vi auguro buona visione. Ciao ragazzi, io sono Andrew e oggi siamo qui con un nuovo vlog. Faremo un volo diretto, faremo Catania-Vienna e poi Vienna-Catania. Mancano tre ore al volo, perché ci vediamo direttamente a questo punto dell'aeroporto. Ed eccomi qua, che sono seduto sull'aereo, accanto a mio fratello, e questa clip è stata registrata poco prima del decollo dell'aereo. Ragazzi siamo, siamo arrivati all'aeroporto di Vienna. Bene ragazzi, ora andiamo a prendere la nostra valigia e andiamo in hotel a dopo. Ragazzi, siamo in Outbanhof, c'è la stazione centrale di Vienna, in poche parole. Adesso dobbiamo cercare l'hotel e basta. Buongiorno ragazzi, secondo giorno di vlog. E oggi andremo in un posto chiamato Time Travel. In poche parole sarebbe una sorta di cinema 5D su. Finiamo di sistemarci e niente, ci vediamo dopo. Prima di andare al Time Travel, facciamo visita un attimo al Duomo di Vienna e visitiamo anche l'interno del Duomo. Ed eccoci arrivati al Time Travel. Vi lascio qualche foto per farvi capire un po' com'era questo posto. Ragazzi, abbiamo ora finito il Time Travel. Io vi consiglio di andarci perché è stato figo. Adesso vado a mangiare e ci vediamo dopo. Raga, siamo al McDonald's e sto mangiando un sunday. Cristian la ciambellina. Ruben le patatine. Raga, siamo al McDonald's. Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno ragazzi Terzo giorno di vlog Il genere va a fare un sacco di cose Raga siamo a Prater Cioè poiché però il parco di divertimenti di Vienna E niente Adesso andiamo a farci qualche attrazione Vediamo cosa posso fare Ragazzi stiamo mangiando Io, Noemi, Cristian e Ruben Stiamo mangiando cotoletta Mio padre i ravioli E mia madre le salsicci Ho fatto bene anche il piatto raga Vabbè Il Prater di Vienna è letteralmente Un parco di divertimenti Lì paghi solo le attrazioni che vuoi fare E non l'ingresso al parco Come in tanti altri parchi di divertimenti Che esistono nel mondo Al Prater di Vienna Ci stanno tutti i tipi di attrazioni esistenti al mondo Come le montagne russe Come le case horror O attrazioni acquatiche Vi faccio vedere alcune foto Che ho scattato al Prater E vi faccio vedere anche qualche clip E delle attrazioni che ci stanno all'interno del parco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Prater E niente Un altro posto in cui vi consiglio di andare Perché è stato fighissimo Poi ho pescato Deadpool da le macchinette È stato bellissimo pescarlo Coccoli Adesso ce ne andiamo al centro Mangiavo qualcosa E poi facciamo l'ultima notte in hotel Buongiorno ragazzi Quarto e ultimo giorno di vlog So qui in metropolitana Adesso andiamo in città Facciamo le ultime cose E poi ce ne andiamo in aeroporto Niente ragazzi Ci vediamo dopo Grazie a tutti 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 Ragazzi abbiamo terminato di fare queste cose al centro Abbiamo comprato souvenir e tant'altro Adesso andiamo a riprendere i bagagli E ce ne andiamo in aeroporto Niente A dopo raga Ragazzi siamo sul treno Basta E adesso andiamo in aeroporto Bagagli presso tutto presso E qua c'è noi Ciao Vabbè sempre il mio compagno ormai Adesso andiamo in aeroporto Ragazzi ragazzi E ci vediamo dopo In questo istante state vedendo Il momento del decollo Del nostro aereo Che ci ha riportati a Catania Il vlog finisce qui Se siete arrivati fino a questo punto del video Vi ringrazio per aver visto tutto il vlog Io vi saluto E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao Ciao